Ciao da Federico, oggi sono qui con la Fido C21, una gravel bike elettrica, mi ha convinto sotto ogni punto di vista già a primo colpo d'occhio guardando il telaio, i componenti che sono stati installati mi aspettavo un prezzo molto elevato, invece siamo al di sotto dei 1000 euro, 999 euro eppure la qualità è veramente elevata, abbiamo un rapporto qualità prezzo su questo modello elevatissimo perché lo dico, primo il peso solo 17,5 kg, i freni di tipo idraulico con disco da 180 mm all'anteriore e 160 mm al posteriore, quindi c'è stata anche una bella progettazione e Tektro, un cambio a 9 rapporti in più abbiamo un display integrato che va a donare un elegante design, geometria come vi ho detto da gravel quindi abbiamo un bel bilanciamento dei pesi, anche su sterrato avremo sempre la massima tenuta grazie anche a delle ruote belle scorrevoli da 28 pollici con una tassellatura da sterrato e mi piace anche la riga color nocciola che c'è attorno, che in genere troviamo su modelli molto costosi spero che questa recensione vi sia stata utile, alla prossima, ciao da Federico